Ovviamente il lunedì mattina, molto diverso dalla domenica, passeggiare per Parigi, gente da farata che gira avanti e indietro con le borse, le macchine, è bello vedere le macchine, a me piace guardare le macchine e pensare che dentro ogni macchina c'è una storia, c'è un mondo, dentro ogni macchina c'è uno incassato, felice, innamorato, licenziato, senza una lira oppure ricco, ogni macchina dentro ha un cosmo, un atomo e poi si fischietta perché poi alla fine, se uno pensa ai casini è meglio che fischiettare, quindi con la bocca a culo di galina si va via così. Grazie.